Ma dietro al mondo della musica, che sembra solo divertimento ed emozioni, c'è anche del duro lavoro. L'ospite di oggi ce ne parlerà, ma prima una clip per farvi vedere che cosa ha combinato in questi anni. Tutto, tutto grande, cercavo a voler alla fine anche se tu non fosse me. E vedi che sto piangendo, che se la corte non sei tu, non sei troppo distratto. Sa volta sarebbe per sempre, non importerebbe niente se, che quando è tua, mi ha dato a tua madre, ma tanto vorrei. E vedi che sto da, a te te, io mi miro, a te te te, io 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 miro. Questa questa musica, queste canzoni, un autore che le ha scritte tutte, Roberto Casaglino, in collegamento. Ciao, ciao a tutti. No, guarda, Roberto, io sono arrabbiatissimo, non credo di voler fare queste interviste, sai perché? Perché mi sono proprio, che la sto sentivo avanti qui, questa stessa tua. Eh sì, diciamo che le mie canzoni non sono molto allegre, non sempre, insomma. Ma in grado dell'allegria o non allegria, comunque emozionati, ma davvero? Ma io non sapevo di moltissime, e io non so, a questo punto, tu che stai dietro a tutto questo successo, non ti rode un po', che loro si fanno vedere e tu non lo sai, che tu non sei città. No, la seconda è un modo comunque per far girare le mie emozioni, quindi all'inizio ero molto geloposo delle mie canzoni, quindi non le dava a nessuno. Poi piano piano iniziarono a farle girare e quando non ti scordavano di me, cominciarono poi il mio percorso d'autore, parallelo a quello da canzoni d'autore, insomma. No, ma poi per le analizie, io ti odio, guarda. Guarda, bravissimo. Senti, ma tu potrebbe essere considerato un lavoro del futuro? Lo consigli in qualche modo ai ragazzi? Sicuramente ci vuole tanto talento. Guarda, sicuramente ci vuole talento, ci vuole tanto lavoro, perché è chiaro che ti devi esercitare nel corso degli anni, ma come ogni lavoro non ti puoi improvvisare, diciamo. Però dirti che è il lavoro del futuro è un po' azzardato, visto che la discografia non sta andando molto bene. Ti dico soltanto che due giorni fa sono stato alla stazione Termini, non c'erano da tanto tempo, e sono passato dai corpi ed era chiuso, cioè il divorzio è chiuso, quindi vuol dire che i dischi non si vendono. Sì, ma per noi è un periodo insomma duro. Ma tu ti commuovi per le canzoni che scrivi? Io ho scelto l'opera. Io, io devo anche, mi commuovo del momento in cui scrivo. Poi, l'altro, il lavoro più grande è un po' all'interno, perché se riesce veramente a dare lo stesso calore e alle mie parole, automaticamente sono il primo a piangere. Certo. Poi, vabbè, ricordiamo che l'atmosfera nascolta è il tuo album del 2009, ha fatto un sacco di successo, mi stai preparando già un altro, insomma, noi ti aspettiamo quando vieni a Torino e vieni a cantare per noi. Quindi, ti direi qua. Anzi, a questo punto, Benedetta, sai che cosa potremmo fare? Che cosa potremmo fare? Possiamo lanciare un'idea, cioè tu potresti scrivere una canzone, no veramente, lo sto dicendo, Roberto, scrivi una canzone per noi. Noi la teniamo, la postiamo ai nostri ragazzi ribelli, veramente, facciamo questa cosa, i nostri ragazzi provano ad interpretarla e poi magari si può fare un contest e scegliere quale è il migliore. Ma sarebbe bello, direttente. Ti va, Roberto? Potete cantare anche voi? Sui mari, sui mari. Ci sto, ci sto, ci sto, ma lo facciamo. Guarda, c'è una domanda per te da Meghi, ma questo contest lo facciamo, scrivici una canzone, Meghi? Sì, ciao Roberto. Patrizia ti scrive, Roberto ti conosco presso le tue canzoni da un bel po', ma parlano solo d'amore declinati in ogni maniera, a quando una canzone un po' più impegnata? Buon dito, in realtà l'amore è un concetto molto universale, è un sentimento molto universale, secondo me la musica deve, cioè io parlo di questo, non perché non mi interesso di ciò che accadde nella società o nella vita politica, mi riesce molto meglio parlare dell'amore, visto che lo vivo comunque a 360 reali in ogni sua forma, poi parlare di impegnato è impegnato del mondo soggettivo, perché l'amore è un amore che è molto impegnato e molto impegnato. Ma poi è anche l'amore che smuove il mondo, grazie Roberto, scrivi la canzone, un tiro di un po' meno, per le lacrime. Ciao, ciao, andiamo subito da Meghi perché so che...